Sarà un weekend ricco di gare, quello degli sport che vedono protagoniste le siciliane, tanti match nella palla nuoto, per Ortigia impegno casalingo contro Savona, squadra più 4 dagli aree Tusei in classifica, per gli uomini di Giannuris recupero contro Brescia in programma poi l'1 febbraio, in A2 la nuoto Catania vuole continuare a mantenere la zona alta della classifica, occasione ghiotta in casa della penultima Roma 2007, Muri Antichi a caccia della prima vittoria a Bari, 7 punti in classifica, per il tecnico Pugliafito primo match in trasferta stagionale, il Telimar Palermo riceve Civita Vecchia mentre la Rechi fa visita al 7 scogli, in A1 femminile la water polo messina capolista va a Bogliasco con la super sfida tra Plebiscito Padova ed Orizzonte Catania, entrambe pronte ad approfittare di un eventuale passo falso delle messinesi, ricco turno anche nella palla a volo, Mister Bianco va a far visita al Palaspedini all'Universal, 5 fronti riceve l'Augusta mentre la Cordiner va a Palermo, a caccia di punti pesanti anche l'ultima TV volle i Vallei contro Brolo, completano il turno Guppe e Battiati Pozzallo, Letoianni Vibo e Modica Fiumefreddo, nel basket l'Orlandina sfida la capolista Milano, stessa sorte per Agrigento in A2 contro la prima della classe Biella, Scoglio Legnano invece per Trapani che ha visto frenare le proprie ambizioni dopo l'ultimo turno, infine nel rugby l'amatori Catania si appresta al match contro Civita Vecchia, test importantissimo per gli uomini di Ezio Vittorio, vincere vorrebbe dire dare un gran segnale al campionato.